Michael è la storia, convegno internazionale di studi, meminisse vie, viaggi, paesaggi e pellegrinaggi tra antichità e medioevo. Le narrazioni di viaggio rappresentano una produzione di grande interesse sul piano dell'analisi letteraria e dell'indagine storico-culturale, poiché si collocano all'incrocio fra storia ed esperienza soggettiva, reale e fantastico, descrizione e riflessione intima. Questi i temi trattati durante il convegno di studi Michael e la storia. Direzione scientifica affidata a Rosalba Di Mundo, Stefania Sant'Elia, Immacolata Ulisa, Alessandro, La Gioia. Evento a cura dell'Università degli Studi di Bari Aldomoro, Dipartimento Ricerca e Innovazione Umanistica, Centro Studi Michaelici e Garganici dell'Università degli Studi di Bari Aldomoro.